Ciao amici, sono il vostro Roku Wayne e come vedete anche qui sono in compagnia di... Pizzetta! Siamo qui per dirvi cosa? Siamo qui per dirvi che, a breve, ci sarà uno speciale di Halloween Come faccio? Chiamato il... Chiamato Roku Wayne's Halloween Special 2024 Esatto, esatto E in questo special di Halloween mi farà compagnia... Indovinate proprio chi? Anche Pizzetta! Quindi, e cosa ci saranno in questo special? Dove ne so... Cosa? Come ne... Non abbiamo... Varie recensioni a tema Halloween Ah, vabbè, non ne avevamo parlato prima comunque Futtiti! No, non ti giuro, non mi hai detto cosa ci sarà in questo special... Questo è perché lei segue molto il mio canale Vabbè, questo lo tagli tutto E cosa ci sarà in questo special di Halloween? Ci saranno varie recensioni A tema Ovviamente a tema Halloween A tema Halloween A tema Halloween Ci saranno tanti dolcetti Ovviamente Dolcetti e scherzetti Dolcetti e scherzetti Che i dolcetti sono molto ben visti sul mio canale In questi speciali che io faccio E quindi cosa dire altro? Non mancate, saranno due puntate Uno andrà in onda il 31 ottobre E l'altro andrà in onda il 1 novembre Quindi non mancate E cosa dire altro che Iscrivetevi Mettete mi piace Commentate E ovviamente come sempre Ma che cosa è? Ma che cosa è? E' un fantasma che mi suonerà La confetta non verà Ginkubi che tu abrassarà La realtà